Siamo noi il paese che possiamo permetterci di avere energie rinnovabili che arrivano dal vento, che arrivano dal sole, quindi io ci credo moltissimo. Peraltro mi piacciono anche molto le paleoliche, dovremmo cercare di fare noi invece italiani, abbiamo un po' di... secondo me non ci lasciamo ancora affascinare. È un'azienda che sta facendo il proprio mestiere con un'attenzione spasmodica alla sostenibilità, a non impattare, a lasciare un footprint assolutamente inesistente e quindi positivo sul mondo. Ormai oggi quando parliamo di innovazione parliamo sempre di più di responsabilità sociale, di efficienza energetica, un tentativo di migliorare la nostra qualità della vita quotidiana, soprattutto nelle grandi metropoli. Quindi è evidente che in qualche maniera questi personaggi noti possono essere dei testimonial, dei testimonial proprio di questi messaggi molto significativi. La Terra gira 27 chilometri e 300 metri al secondo. Di che stiamo parlando? Perché non ci appartiene? Ci appartiene, tutto ci appartiene e questo dovrebbe dare un momento per essere responsabile. Pensiamoci!